I carabinieri della tenenza di Favara hanno arrestato un 55enne favarese già noto alle forze dell'ordine in quanto durante una perquisizione in casa i militari hanno scoperto una vera e propria coltivazione di maruana composta da ben 33 piante dalle quali ricavare stupefacente pronto per la vendita al dettaglio una vera e propria greenhouse nel sottotetto di una insospettabile palazzina in centro città. A Favara i carabinieri di pattuglia nel centro paese hanno infatti notato dei movimenti sospetti vicino a un portone una volta chiamati rinforzi i militari hanno deciso di approfondire quindi hanno fatto eruzione nell'appartamento di uno di 55 anni, il favarese dal quale i militari avevano intuito provenisse il via vai di persone hanno così cominciato a sentire un odore sospetto seguendo le forti tracce di Maria non è stato difficile per i carabinieri indirizzarsi verso la manzarda della palazzina in uso all'uomo i militari giunti così all'ultimo piano si sono trovati davanti a una scena incredibile quella che era in soffitta sembrava essersi trasformata in una vera e propria serra condominiale al posto di gerani e rose però il 55enne aveva pensato bene di piantare non una ma ben 33 piante di marijuana alte 2 metri la preziosa silvicoltura ovviamente era dotata di un ingegnoso impianto di illuminazione e di irrigazione per la coltivazione indoor in più tutto l'occorrente per la manutenzione di una coltivazione casalinga le piante già di abbondante inviorescenze erano pronte per l'essiccazione e quindi per il successivo confezionamento di erba questa greenhouse proibita avrebbe fruttato sicuramente diversi chili di cannabis da immettere sul mercato dello spaccio favarese e non solo e avrebbe portato nelle tasche del pusher dal pollice verde oltre 10.000 euro le piante sono state così sequestrate e verranno presto utilizzate per accertare la quantità di principio attivo ed essere poi distrutte il 55enne di favare invece è stato arrestato con l'accusa di produzione di stupefacenti ai fini di spaccio e dovrà ora risponderne davanti ai giudici di Agrigento